Ma quale belva umana? Questo è un signore, non c'entra niente, si chiama Gian Domenico Fracchia. Quindi, caro De Simone, la mia idea del confronto era giustissima. Zitto e basta così. Capisce, Frecchia, ci sarebbe cascato chiunque. Ci sono cascato io e tutto, dire. La sua somigliazza con la belva umana è una cosa incredibile, non so. È una cosa... si prende proprio due gocce d'acqua, uguale, uguale, uguale. Eh, uguale, uguale. Per favore, Fracchia, io voglio andare a dormire, ho sonno. Arrivederci. Scusi, buonanotte. Ah, Frecchia. Sì, scusi, per ragioni legali, ho dovuto fare una piccola perquisizione alla sua macchina. Ha fatto benissimo. Arrivederci. Allora, Fracchia! Comissario, salvo. Beh, perché fa quella faccia? Gli hanno dato una guardatina, gliel'hanno pure detto. Eh, l'hanno guardata molto bene. Tutti uguali, voi italiani piccolo borghesi, basta che vi tocchino la macchina. Manca anche il bollo.